Avessi detto tutto quello che avevo, ok, tutto quello che avevo. Era un mastermind dove potevi entrare solo con invito, quindi pagavi ma solo se ti invitavano. Solo 50 persone, avevamo un resort folli, penso uno dei più grandi resort dell'Albania, se non il più grande. Mi sono buttato perché le competenze sono l'unica cosa che nessuno ti può togliere. E quindi se investi sempre su quelle, diventi una persona che può raggiungere cose che magari due anni fa, un anno fa, sembravano folli.